ciao benvenuti su delta gaming qui è delta 89 questo weekend è in corso un evento 2 per per le schegge antiche quindi ovviamente andrò ad aprire forse anche tutte le schegge antiche attualmente a disposizione in particolare abbiamo anche per i primi due giorni un evento 10 per per un campione molto interessante un nuker molto utilizzato nel gioco ovvero a rima quindi andiamo subito a vedere le sue caratteristiche campione della fazione degli shadowkin se la trovo eccola qui campione di affinità forza importante questa cosa quando andremo a vedere la sua passiva anzi cominciamo proprio dalla sua passiva le abilità che ignorano la difesa avranno un effetto ridotto del 50 per cento quindi lei è un campione nuker di tipo difesa e questo le permette di essere ancora più efficace perché gli avversari che potrebbero ignorare la difesa per ucciderla la difesa che potranno ignorare sarà comunque sempre ridotta in più i campioni della fazione dei demoni non potranno infliggere colpi critici su di lei e al contempo lei non potrà infliggere colpi deboli sulla fazione dei demoni motivo per il quale sottolineavo la sua affinità forza che è debole contro l'affinità spirito di duchessa ma questa passiva le impedirà di fare colpi deboli su duchessa quindi le permetterà di essere efficace nel contrastarla andiamo adesso a vedere le altre sue abilità partendo dalla 1 attacca un nemico a un 50 per cento incrementabile al 75 di piazzare un riduci attacco per due turni e ha anche un'ulteriore possibilità del 25 incrementato a 50 di applicarlo anche su tutti gli altri avversari quelli che non sono stati colpiti il danno sicuramente non è per niente male di questa abilità come ho già detto è un campione basato sulla difesa la sua 2 attacca un nemico ma tre volte ogni colpo ha la capacità di ridurre la difesa del 5 per cento quindi sono tre colpi quindi 15 per cento ogni volta che lei segue questa abilità fino a un 30 per cento in più è in grado di incrementare per ogni colpo la difesa di questo campione fino a il 100 per cento ovviamente ci vorranno una buona quantità di turni perché lei comunque questa abilità la esegue ogni tre turni quindi abbiamo 15 per cento ogni tre turni fino a un potenziale 100 per cento sicuramente in contesti pwe è molto utile perché contro boss la battaglia può durare più turni in particolare contro l'idra quindi sicuramente può sfruttarlo al massimo in arena le battaglie si spera siano molto più corte però comunque se la battaglia dovesse protrarsi lei sarà sicuramente in grado di diventare sempre più letale in più se dovesse eliminare il nemico attiverà istantaneamente la sua a3 che andiamo adesso a vedere questa abilità attacca tutti i nemici e piazza provocazione per un turno ovviamente serve precisione però potremo anche scegliere adesso non necessariamente è la cosa migliore perché comunque ci serve precisione anche sulla sua 1 e potremo poter sfruttare anche la sua 1 però magari se vogliamo specializzarla solo per l'arena il riduci attacco non ci interessa molto come debuff per quanto riguarda la provocazione contro i campioni della fazione dei demoni lei non avrà bisogno di precisione e anzi questo debuff non potrà essere bloccato o resistito e quindi per esempio possiamo provocare la nostra duchessa impedendole di eseguire la sua il suo revive e quindi di resuscitare tutti i compagni che sono stati uccisi da rima potenzialmente utilizzando questa abilità e abbiamo poi un altro turno magari per utilizzare la sua 2 e andare ad eliminare proprio duchessa quindi questo è un aspetto da considerare sicuramente se abbiamo campioni di tipo demone vogliamo stare molto attenti quando li utilizziamo perché se ci troviamo poi contro la rima siamo comunque molto in difficoltà la sua aura incrementa la resistenza in arena di 80 e ovviamente lei essendo un nougar di tipo difensivo è adatto a tutti i team che partono per secondi e quindi non ci interessa avere un'aura di velocità e sicuramente un'aura di resistenza è molto interessante da sottolineare inoltre le sue stat 16.000 ok ma 1531 come valore base di difesa è un valore estremamente alto adesso non so dire se lei è il campione con la difesa base più alta non mi sono messo a cercarlo ma sicuramente è uno dei campioni con il parametro di difesa base più alto quindi sicuramente gli permetterà di fare molto molto danno 97 di velocità è ok comunque i nougar non devono essere necessariamente troppo veloci punteremo comunque a un valore di velocità sui 200 220 poi ovviamente dipende se stiamo in in arena per esempio tag 3 o in arena live gold allora dobbiamo puntare anche a 270 magari con il nougar non c'è limite in arena all'estate dei nostri campioni sicuramente quindi è un campione che mi può interessare avere l'account ovviamente sappiamo che la probabilità del 10 per è quasi inesistente considerando la quantità di campioni presenti nel gioco però comunque è un qualcosa in più come al solito io sono sempre alla ricerca dell'ultimo epico per fondere mikage ilisinia o anche kira se dovesse uscire anche se la probabilità è molto più bassa potrebbe avere senso per alcuni di voi non aprire schegge durante un evento 2x per le schegge antiche se per caso non vi interessa fare per esempio la fusione in corso quindi non vi interessano i punti per il torneo e se avete già fuso mikage perché a quel punto se volete massimizzare la probabilità di trovare leggendari potreste aspettare probabilmente qualche giorno mi aspetto che uscirà un evento leggendario extra dalle schegge antiche a quel punto forse la probabilità per trovare leggendari è migliore però c'è un però sempre visto che io ancora sto cercando di completare la fusione di mikage il 2x mi raddoppia la probabilità di epici e quindi io devo aprire le schegge ancora durante i 2x cominciamo quindi 10 per volta e vediamo cosa troviamo ovviamente come al solito lasciate un like sul video iscrivetevi al canale e raggiungeteci su discord commentate qui sotto e fateci sapere quante schegge avete aperto e che campioni avete trovato anche voi e se avete trovato a rima cominciamo quindi con le prime 10 speriamo in qualche epico interessante magari un leggendario perché no per ora nulla di interessante ovviamente non può uscire il campioni utilizzabili per la fusione perché sono di affinità del vuoto però in altre fusioni in passato ovviamente aprire schegge antiche poteva anche essere utile proprio per questo perché potevamo se eravamo fortunati trovare il campione che ci serviva per completare la fusione quindi ci avrebbe permesso di saltare alcuni eventi per ora ancora niente un leggendario non un leggendario che mi fa impazzire non lo avevo quindi comunque un nuovo campione nel mio account vediamo le sue abilità con la 1 attacca un nemico due volte ogni colpo ha la possibilità di incrementare la barra turno di questo campione di 5% quindi un 10% di barra turno ha un 30% di possibilità di ripetere questa abilità e piazza un 100% di riduzione della cura sul bersaglio per due turni se l'abilità però viene ripetuta il che sarebbe potuto andare bene anche che lo piazzasse direttamente basta anche perché riduzione della cura è un buff utile probabilmente solo contro emio se non molto altro la sua 2 piazza un 25% di potenziamento su questo campione però solo su di lui e ha un 75% di provocare un avversario con i libri ovviamente 100% però è solo un avversario avrebbe avuto molto più utilità magari in arena se avesse potuto provocare tutta la squadra avversaria in pwe il provocare ovviamente può esserci utile contro l'idra però il problema è che lui deve targettare la testa giusta altrimenti dobbiamo andare in manuale se avesse bersagliato tutti invece saremmo stati più tranquilli andiamo a vedere la 3 attacca tutti i nemici a un 75% di possibilità 100% con i libri di piazzare un riduci attacco ok però diciamo che ormai abbiamo campioni molto più forti nel gioco quindi lui diciamo perde un pochino di utilità cosa un po' più interessante è la passiva non ricordo quale delle due partiamo dalla prima eccola qua quando attaccato distrugge i massimi hp dell'avversario del 5% 2,5 contro i boss e tranne contro lo scarabeo contro il quale invece comunque distruggerà solo lo 0,5% inizialmente poteva essere sicuramente un buon campione per lo scarabeo poi se non sbaglio questa modifica è avvenuta successivamente e ha perso molto di efficacia non può distruggere gli hp di un nemico oltre il 50% e questa passiva si attiva solo una volta per ogni attacco quindi se sono colpi moltipli comunque viene contato solo una volta in più ha un 50% di possibilità di piazzare una strizza reale sull'avversario che ha gli hp distrutti del 20% o più è noioso principalmente da averlo contro in pve quando ci combattete contro nella doom tower per esempio perché se non state attenti andate a danneggiare di molto i massimi hp dei vostri campioni soprattutto quando poi dopo vi trovate a combattere contro l'ondata successiva o il boss l'altra sua passiva resuscita school warn un motivo per il quale può essere comodo portare lui insieme a school warn con 50% di hp e 50% di barra turno all'inizio di ogni turno se ce ne sono più di uno ne resuscita solamente uno però ogni turno ne può resuscitare un altro comunque non è il miglior kit del mondo quindi non credo che andrò a buildarlo almeno a breve andiamo avanti ancora niente di interessante quindi proseguiamo vediamo se siamo fortunati con l'epico ilisigna prima o poi dovrà uscire oppure sarò abbastanza sfortunato da dover attendere un evento in cui lei sarà garantita e sarà richiesta una quantità di schegge infinite per riuscirla ad ottenere andiamo avanti poi se dovessimo essere fortunati potrebbe anche uscire un altro leggendario ma non è stato così apriamo le ultime set e speriamo che vada leggermente meglio raro ovviamente non ci sono rari nel gioco che attualmente possano essere utili nel mio account epico fenax ottimo campione sicuramente vale la pena buildarne almeno uno nel proprio account se lo avete è molto forte in idra ma potete tranquillamente usarlo anche in altre aree pwe potenzialmente andate a vedere i video di la torre potrebbe essere utile anche in arena ovviamente con determinati team perché la sua 1 è davvero davvero forte una delle 1 che fa più danno del gioco lui praticamente attacca una volta ma può fare un secondo colpo se l'avversario ha dei debuff e ovviamente quasi sempre i nostri avversari avranno dei debuff il moltiplicatore è davvero molto alto il suo valore base di attacco è buono e soprattutto se riusciamo a uccidere qualcuno questo non può essere neanche resuscitato quindi la sua 1 è molto molto forte in passato era anche utilizzato molto contro il golem di ghiaccio proprio per la sua capacità di eliminare i due golem vicini a lui e non poter essere resuscitati ma non bisogna neanche sottovalutare le sue altre abilità perché comunque la sua 2 attacca tutti i nemici è in grado di piazzare blocco buff che contro l'idra è davvero utile e blocco skill attive che contro l'idra in quel caso non ci serve ma se per esempio lo utilizziamo nella torre sventura o in altre aree pwe sicuramente è un'abilità interessante in arena anche lo è però ormai ci sono molti cleanser e molti campioni con alta resistenza e lui non lo andremo a buildare con un'altissima precisione ma solo il giusto la sinergia con taglia non ci interessa troppo perché taglia non è un campione che mi suggerirei di investire quindi tendenzialmente lo utilizzerete da solo infine la sua 3 anche questa non è male attacca un nemico e ha la possibilità di ridurre la difesa e anche ridurre la velocità con due debuff del nemico sicuramente è un ottimo campione ovviamente dobbiamo tenerlo in vita quello è il suo aspetto critico il fatto che comunque non ha altissimi hp e difesa altre 5 andiamo avanti melbia ok vediamo come quantità di epice alla fine non è andata male anche un leggendario quindi sicuramente come quantità di campioni non mi posso lamentare purtroppo se stiamo aspettando un campione nello specifico la probabilità è comunque sempre molto bassa prima o poi uscirà però potrebbe volerci molto tempo eccolo qua school warn l'abbiamo menzionato prima anche l'estetica è molto simile visto che ci siamo andiamo a vedere rapidamente le sue abilità attacca un nemico due volte anche lui ha una possibilità di fare un colpo extra lui si dà la possibilità di contrattaccare e incrementare la sua velocità per due turni e poi la sua passiva incrementa la baraturno di questo campione del 15% ogni colpo critico ovviamente quindi lo builderemo col 100% di tasso critico e incrementerà vabbè del 50% invece se lo andiamo a eliminare Laura nelle fazioni quindi non ci interessa con questo abbiamo aperto tutte le schegge non ho intenzione di aprirne altre anche perché ho appena trovato un leggendario quindi non mi aspetto di trovarne altri non è uscito l'epico e non voglio accanirmi con le gemme magari ci sarà un evento in settimana per le quali potrei voler aprire altre schegge vediamo quanti punti ho fatto per il torneo non sto cercando di ottenere il campione quindi mi interessa di meno il completare questi eventi però sicuramente quello che faccio come sempre durante una fusione che decido di saltare una fusione tradizionale andrò a fondere i quattro campioni rari per ottenere il campione epico almeno per averne una copia nel mio account non si sa mai possa essere utile in futuro e comunque non sembra malaccio questo epico e con questo è tutto per oggi come ho già detto commentate qui sotto e fateci sapere voi chi avete trovato quante schegge avete aperto lasciate anche un like sul video iscrivetevi al canale raggiungeteci su discord con questo io per oggi vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video